E ancora una volta dai privati che viene un'iniziativa di assoluto interesse in ordine all'immagine migliore che il territorio di Sciacca è chiamato ad offrire ai suoi visitatori. Lo rivela il ruolo della neonata associazione Sciacca Turismo, costituita da un gruppo di imprenditori, al momento specificamente del settore alberghiero, imprenditori che con entusiasmo hanno deciso di mettersi in rete per promuovere il territorio. Attualmente i soci fondatori siamo tutti attività ricettive, ma questo è solo una casualità, in quanto il nostro obiettivo è quello di avere all'interno dell'associazione quante più attività commerciali lavorano col turismo. Quindi non solo albergatori, diciamo, obiettivo? Assolutamente no, anzi noi speriamo di avere attività di ristorazione, stabilimenti balneari, ceramisti, chiunque in un modo o nell'altro lavori con il turista è un nostro potenziale associato. L'associazione chiama raccolto a tutti gli addetti lavori, strutture ricettive, ristoranti, bar, tour, operatori, artigiani, per valorizzare il territorio locale e regionale. Diversi gli obiettivi, favorire la diffusione dell'ospitalità turistica come cultura e come valorizzazione del territorio, favorire la promozione del territorio, del turismo e delle attività associate, favorire la collaborazione agli accordi con enti, associazioni, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private che si occupano della promozione del turismo territoriale, della realizzazione degli scopi sociali e delle iniziative dei soci ed anche del miglioramento della normativa in materia di turismo. Quello che noi vogliamo, che noi puntiamo a fare è quello di pensare al sistema turismo come un unico sistema da abbracciare a 360 gradi. È un sistema complesso e come tale va affrontato in maniera da offrire un'esperienza quanto più piacevole al turista. È immaginabile che un'associazione come Sciacca Turismo presenti alla istituzione una specie di decalogo delle cose che bisogna fare. Certamente. I nostri punti sono pochi e semplici attualmente, in quanto i nostri obiettivi sono quelli di trovare soluzioni a problemi in maniera semplice e di immediata risoluzione, come può essere quella della zona traffico limitata, dell'area pedonale, ma anche della gestione del verde pubblico. Quindi ogni attività che possa prendere in gestione una piccola area di verde da curare. Molte altre proposte stanno iniziando ad arrivare da chi ha iniziato a chiedere informazioni per poter entrare nell'associazione. È la prima volta dall'istituzione dell'imposta di soggiorno che nasce a Sciacca un'iniziativa di tale portata. Iniziativa che è rivelatrice per fortuna di come soprattutto i giovani abbiano interesse a sviluppare un brand Sciacca fondamentale per affermare un'idea di città che è chiamata ad andare al di là dei problemi della contingenza che sicuramente non sono secondari ma che non possono da soli caratterizzare un'immagine, quella che viene fuori esclusivamente decadente e crepuscolare. I problemi ci sono, ma è pur vero che attorno al turismo ruota un'economia emergente che si affianca ai grandi numeri prodotti dal tour operator aeroviaggi. Molta gente arriva a Sciacca senza ben sapere quello che trova, quello che è la città. Spesso, spesso, quasi sempre ne rimangono estasiati e molti si rammaricano di non aver prenotato un soggiorno più lungo nel nostro territorio. Quindi la nota, la prima cosa che mi viene da pensare è quella della promozione, ovvero riuscire a far conoscere quanto più possibile il nostro territorio. E poi, diciamocelo chiaramente, Sciacca è bellissima, come sono riusciti a dimostrare nei loro video i filmmaker Edoardo Veneziano da Curso e Puleo, che ringraziamo per averci autorizzato alla trasmissione. Incontrarla Viverla Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!